Novità in vista per la costituzione della prossima giunta municipale. Durante l'incontro di ieri con i partiti di maggioranza, il sindaco Mimmo Consales ha insistito sulla necessità di un'adeguata presenza femminile nell'esecutivo, oltre, naturalmente, alla disponibilità full time e all'assenza di conflitti di interesse. E già i partiti si stanno adeguando a queste caratteristiche. Per l'Udc, infatti, prende corpo l'ipotesi Paola Baldassarre. Un altro posto potrebbe andare al coordinatore cittadino Raffaele Iaia. Il PD, invece, nelle scorse ore avrebbe corteggiato con insistenza l'avvocato Giussi Santomanco. Sempre i democratici dovrebbero esprimere anche la presidenza del Consiglio, che potrebbe andare a Pasquale Luperti, o a Luciano Loiacono, o ancora ad Antonio Monetti. L'ultima donna, invece, dovrebbe essere il misterioso avvocato, annunciato come tecnico da Consales. Si rafforzano, infine, le voci sul posto da vicesindaco a Vincenzo Ecclesie e sulle poltrone nell'esecutivo per Antonio Giunta e Carmelo Palazzo. Meno chiara, infine, la situazione nel Partito Repubblicano e nell'API.